Registro, registro il tutto, è troppo bello Dio mio, no Il Super Saiyan Black di terzo livello, glicciatissimo Bene, come fa il Black di terzo livello? Mi stiamo a tocco Eh, cosa? Stai sendendo tanto lontanato Vabbè, li faccio a su premato Guarda, palpebre rosa Non è troppo bella questa cosa Perché di zitto? È normale di volare Merda, però mi ha finito questo Super Saiyan Perché muoio No, è finito, perché?